mid journey eccolo il corso completo la guida al famosissimo alla famosissima intelligenza artificiale per generare immagini mid journey è probabilmente una delle più famose e altrettanto probabilmente una delle più efficaci intelligenze artificiali per fare questo genere di cose ormai sono tantissime mid journey è stata una delle prime e devo dire che se la cava ancora molto molto bene lo facciamo con uno specialist perché scopriamo mid journey insieme a massimo nava in arte art landis del quale vi metto il tag nella descrizione di questo video ciao massimo e grazie ciao andrea grazie a te allora raccontaci un po come funziona questo mid journey sono veramente curioso allora stiamo parlando intanto di una piattaforma tra quelle più utilizzate e grazie alla mole di utenti che si sono riversata all'interno di questa piattaforma fin da subito abbiamo un potenziale realizzativo creativo generativo veramente valido il che ci mette a disposizione la possibilità di interpretare quella che sarà poi chiamata sintassi del prompt ovvero la frase da convertire in un soggetto visivo in tanti modi diversi potendo giocare sia sulla sintassi sia sul modo in cui noi scriviamo la nostra frase per ottenere un soggetto il soggetto desiderato sia tutta una serie di prom di particolarità di parametri di riferimento che potremo sviluppare all'interno del nostro mid journey secondo quelli che sono i nostri gusti e la nostra volontà di perfezionare il risultato finale mid journey è in effetti una piattaforma atipica se vogliamo all'interno del panorama già che si serve di una web app come quella che stiamo osservando in questo momento che ci mette in relazione diretta con tutta la community orientamento che come vedremo poi nel corso di questa lezione scopriremo essere utile per trarre ispirazione dal lavoro degli utenti o persino dal nostro stesso lavoro godendo anche di momenti specifici quali reaction e contenuti variegati all'interno di mid journey potremo quindi sviluppare anche una certa consapevolezza e di conseguenza migliorare la resa di tutti i nostri prompt la web app di riferimento che si aggiorna ovviamente nel corso del tempo si presenta come un classico social abbiamo la nostra cover il nostro profilo alcuni strumenti come ad esempio le collection che ci mettono in condizione di raccogliere quelli che sono i lavori che noi preferiamo per misurarne l'efficacia nel corso del tempo o addirittura riciclarne l'utilizzo nella porzione di sinistra poi ci sono una serie di strumenti che ci mettono anche in condizioni di migliorare il modo in cui ad esempio visualizzare i contenuti all'interno della pagina oppure eventualmente esplorare quelle che sono i risultati ad opera della community che ci offrirà la possibilità poi di analizzare il prompt che ciascuno di essi ha utilizzato o decidere magari di seguire come si fa sui social un utente particolarmente abile abbiamo anche altri strumenti eventualmente utili per trarre ispirazione che servono al migliornei per migliorare se stesso di ciclo in ciclo quindi la mole di utenti disponibile sommata a questi strumenti ci mette davvero in condizioni di ottenere il massimo dal nostro lavoro al suo interno la web app che stiamo osservando però non è la diciamo la sezione la pagina all'interno della quale attualmente in questa versione di migliornei si sviluppano i prompt serve in realtà ad aggiungere al nostro profilo quello che è il flusso del nostro lavoro e a confrontarci come dicevamo prima con gli altri utenti entrando in relazione con loro grazie ovviamente a meccanismi come il classico social following social followers tutti questi meccanismi qui che sto descrivendo in maniera non esattamente migliore ma servono comprensibilmente come ho detto a mettere in relazione gli utenti il lavoro vero e proprio una volta che ci si registra all'interno di migliornei si sviluppa altrove in in questa versione di migliornei abbiamo bisogno infatti della piattaforma discord quando ci si registra migliornei servirà quindi disporre già di un profilo su discord che si aggancerà automaticamente a quello che il nostro profilo migliornei che vediamo nel mio caso qui sotto in basso quindi il mio naming quello che osserviamo in basso a sinistra è esattamente lo stesso che ritroveremo all'interno di discord accedendo a discord dal migliornei si troverà un canale ufficiale che si presenta con tutta una serie di sub canali che ci accompagneranno all'interno della nostra del primo impatto con il mondo di migliornei e a sua volta ci metterà a disposizione non solo ulteriori aree dove tra respirazione o confrontarci con gli utenti ma soprattutto delle guide di riferimento molto importanti che ci permetteranno anche di seguire lo sviluppo dell'algoritmo quella che stiamo osservando è una cosa perdonami massimo rispetto a discord il concetto di base di discord è che voi dovete immaginarlo se non lo conoscete se non lo avete mai visto un po come se fosse una specie di whatsapp più potente un whatsapp potentissimo un telegram molto potente nel caso in cui abbiate delle difficoltà utilizzare questo strumento è uno strumento per mandare messaggi per chattare con le persone se avete delle difficoltà utilizzarlo trovate il mio tutorial ve lo linko comunque nella nella playlist correlata qui nella descrizione del video così almeno se non lo avete mai usato e fate avete un po di difficoltà perché effettivamente uno strumento molto potente e che a una prima un primo sguardo potrebbe anche risultare un po complesso in quel caso vi guardate prima il tutorial su discord e poi tornate e seguite le istruzioni di massimo vedrete che comunque se avete un minimo di dimestichezza digitale non avrete difficoltà a seguire quello che vi indica massimo per per utilizzare i miei giorni vi dico la verità in questo corso daremo un po per scontato che sappiate già usare discord quindi se così non fosse fate un passo indietro e poi tornate a guardare il video vai massimo in effetti discord e dal mio avviso io lo definisco una sorta di super social poiché come ha spiegato andrea integra funzioni di messaggistica e possiamo inquadrarlo come una sorta di forum di vecchio tipo ma calato nell'era dei social il paragone con il forum è importante poiché all'interno del canale di mi giorni noi troviamo nella colonna principale quella di sinistra tutta una serie di riferimenti che ci servono ad esplorare il contesto di mi giorni sottolineo in particolare la sezione annunci dove mi giorni rilascia informazioni specifiche man mano che il suo algoritmo va a svilupparsi quindi ad esempio ci indica il modo corretto attraverso il quale utilizzare gli strumenti che andremo ad osservare ed è utile anche soffermarsi di tanto in tanto nella sezione status poiché al suo interno ci vengono offerte informazioni rispetto alla stabilità in quel momento del server discord e delle funzioni lato web app per cui in caso di problematica senza entrare nel panico è sufficiente recarsi sul disco nel canale di mi giorni ed esplorare queste due sezioni una volta che ci si sia registrato all'interno di mi giorni e quindi si sia fatto il passaggio il discord è importante attivarsi come da consuetudine all'interno delle varie sezioni di benvenuto e in particolare nei primi passi che muoviamo all'interno della piattaforma saremo spinti a procedere ad elaborare i nostri prompt in quelle sezioni chiamate new buy ce ne sono diverse si aggiornano nel corso del tempo per cui possono eventualmente presentarsi anche con un'altra nomenclatura e le troviamo comunque all'interno della colonna di sinistra etichettate nel modo che stiamo osservando quindi newcomer room ce ne sono diverse come ho detto e scorrendo in basso troviamo altri riferimenti che ci potrebbero tornare comodo nel momento in cui avremo sviluppato una serie di prompt e quindi saremo riconosciuti dalla piattaforma come utenti che sono comunque ormai adatti a interagire con il resto della community questa sorta di periodo di prova in realtà ci mette a disposizione tutti gli strumenti di mi giorni quindi a dispetto poi al di là ecco del tipo di abbonamento che abbiamo scelto all'interno di mi giorni in generale qui dentro già dei primi passi possiamo utilizzare tutti gli strumenti che andremo a vedere a breve all'interno di queste sezioni tutte le attività sono pubbliche condivisi ciò e condivise ciò che stiamo osservando in effetti è il lavoro di altri utenti che possiamo a nostra volta sfruttare per ricondividere quel tipo di prompt che si hanno utilizzato oppure possiamo eventualmente andare giù in basso all'interno della sezione messa a disposizione da mi giorni nel suo canale per iniziare ad interagire un consiglio particolare però può essere quello eventualmente di lavorare in una sezione un po' più tranquilla ovvero si tratta di abilitare il cosiddetto bot di mi giorni attenzione prima di entrare nel dettaglio del bot di mi giorni spendo due parole per spiegare le utilità i pro e contro delle due aree nelle sezioni pubbliche in generale noi abbiamo la possibilità di pubblicare il nostro prompt però come stiamo osservando la velocità di aggiornamento di queste sezioni è tale per cui tante volte ci si trova in confusione o si perde letteralmente di vista il nostro prompt per questa ragione consiglio all'inizio di sfruttare la modalità bot che è facilissima ad abilitare una volta che ci troviamo all'interno di uno dei canali new buy ci basta andare all'interno di uno qualunque dei prompt realizzati dagli altri utenti e sfruttare le reaction di discord che si trovano sulla parte destra del nostro schermo ogni volta che ci richiamo al di sopra del di un prompt realizzato da un altro utente compare subito questa barretta con alcune faccine il primo pulsante aggiunge una reazione innesca l'apertura di una nuova finestra all'interno delle quali ci sono le reaction non solo del server mi giorni ma anche di tutti gli altri server ai quali siamo iscritti dentro mi giorni quindi anche server che non riguardano mi giorni nel mio caso dentro discord assolutamente nel mio caso per abilitare il bot attingo direttamente ad una delle funzioni che si chiamano envelope basta scrivere due puntini envelope due puntini e facendo in questo modo vedrò subito diventare questa bustina l'icona della bustina uno degli strumenti più utilizzati quindi lo vedrete in evidenza solo nel momento in cui lo utilizzerete inizialmente quindi non sarà disponibile tra quelli più utilizzati cosa accade quando clicco questa bustina pigiando il pulsantino il post sul quale mi sono ritrovato evidenzierà quest'ulteriore icone uguale alla precedente ma il rumore che sentiremo a quel punto un clip diciamo un clip così standard di discord eh innescherà una annotazione che vediamo essere disponibili in alto a sinistra una sorta di clone del canale ufficiale di mi giorni che però questa volta cliccandoci sopra genererà un'area disponibile ad uso esclusivo della mia persona in questo caso vediamo è stato riportato il prompt dell'utente il cui scopo è semplicemente quello di attivare il nostro bot nel mio caso non sono interessato a questo tipo di contenuto quindi cliccando sulla x attivabile con due puntini x due puntini il post scomparirà e mi ritroverò nella mia area in questo caso ovviamente io utilizzando il bot quotidianamente mi ritrovo già dei contenuti nel vostro caso se siete la prima esperienza all'interno di mi giorni troverete l'area pronta all'uso assolutamente in tolsa quindi pronta al primo utilizzo ed è qui che le cose si fanno interessanti un dettaglio da conoscere lavoreremo sul bot per una questione di pulizia e perché ovviamente contenendo esclusivamente i nostri lavori sarà più semplice poi entrare al suo interno e recuperare gli elaborati che andremo a sviluppare e vedremo il perché è utile questa pulizia nel layout in realtà però procedendo e man mano che si diventa esperti con i giorni vedremo che è molto interessante osservare anche il flusso di lavoro altrui nelle tante stanze che abbiamo sempre a disposizione all'interno del server di mi giorni su discord poiché esse contengono non solo scambi discussione e consigli ma anche tutta una serie di riferimenti eventualmente utili come ad esempio le sfide quotidiane o altre proposte da parte del team di mi giorni già che siamo al suo interno vi ricordo solo che se dovesse aver necessità di supporto da parte del team di mi giorni il supporto ufficiale si trova proprio all'interno di discord nella sezione omonima sezione supporto dove ovviamente se siete degli utenti che stanno sfruttando le funzioni trial potete utilizzare il canale dedicato se avete una sottoscrizione attiva e avete qualche problema lato pagamenti o ad esempio diciamo gestione del vostro profilo lì dentro trovate non solo tutti i moderatori che sono tanti e sempre attivi ma anche altri utenti che possono eventualmente assistere tornando al nostro bot una volta che siamo usciti dal server del bot possiamo rientrare pigiando il pulsantino in alto a sinistra disso immutabile quindi sempre lì che ci apre la sezione privata all'interno della quale il primo dei pulsantini è proprio il bot di mi giorni che si presenta come un qualsiasi utente con il quale interagire in privato la prima cosa da fare a questo punto è prendere confidenza con i settaggi del nostro mi giorni come si interagisce all'interno di discord con mi giorni il primo comando è semplicemente lo slash di shift e numero 7 cliccando shift il numero 7 si abilita un menu di riferimento all'interno del quale troviamo tutta una serie di strumentazioni al di là di quelle utilizzate di frequente che nel mio caso sono disponibili poiché utilizzo questo tipo di strumento possiamo però scorrere all'interno delle voci mi giorni bot per scoprire quelli che sono i comandi chiave il primo punto però è andare a selezionare la voce settings eccola qui per avviare un comando ci basta pigiare il pulsantino invio cliccando su invio abbiamo la possibilità di analizzare quella che è l'interfaccia di mi giorni dal punto di vista strumentale quindi più dell'interfaccia la strumentazione vera e propria di opzioni che mi giorni ci mette a disposizione che non si esauriscono in questa singola schermata ma che possiamo eventualmente trovare comodo per gestire il nostro pronto ci arriveremo prima di tutto osserviamo che nella porzione superiore sono disponibili delle modalità destinate all'uso all'anzia alla scelta dell'algoritmo che desideriamo sono tante diverse e sono attive fin dagli esordi della piattaforma abbiamo infatti addirittura la prima versione dell'algoritmo di mi giorni che persiste ancora oggi nonostante sia decisamente brutta obsoleta potremmo dire è sicuramente obsoleta sulla bellezza in sé poi ci arriveremo e la ragione per la quale sono tutte disponibili è perché in alcuni casi sfruttare vecchie versioni dell'algoritmo ci potrebbe eventualmente offrire un dettaglio differente diverso qualitativamente parlando utile per attivare per esempio una manipolazione dell'immagine un fotobashing dipende da quella tecnica che poi eventualmente utilizziamo per sviluppare il nostro soggetto le ultime versioni sono sicuramente le più potenti ma non è assolutamente insolito sfruttare ad esempio anche le versioni 3 e 4 del nostro algoritmo attualmente siamo alla versione 5.1 estremamente potente ricca di particolarità però è possibile dotarsi delle versioni precedenti poiché alcune delle opzioni che menzionerò all'interno di questa lezione non sono disponibili tutte allo stesso modo per ogni versione dell'algoritmo per fare un esempio nella versione 3 esiste un comando che ci permette di ottenere il video di riferimento generato da mi giorni per quel tipo di contenuto tale funzionalità però non è attiva per le versioni 4 5 e 5.1 contemporaneamente parametri legati alla qualità o alla stilizzazione del risultato cambiano in ragione del tipo di algoritmo che andremo a selezionare per iniziare è consigliabile sfruttare la versione 5 o 5.1 che sono assolutamente stabili e attendibili abbiamo inoltre altre opzioni che sono comunque tutte da testare da scoprire e che cambiano la resa del nostro contenuto rispetto al prompt che andremo ad utilizzare menzione particolare per la modalità anime ovvero la possibilità di ottenere con il comando niji 4 e niji 5 una resa stile cartoon giapponese per il nostro prompt molto interessante poiché ci mette in condizioni di favorire una resa cartonesca diciamo legata appunto agli anime giapponesi ai fumetti giapponesi eccetera eccetera con una colorazione davvero intrigante quindi vale la pena testare anche queste funzionalità il primo blocco quindi si riferisce alle varianti degli algoritmi in basso a seguire abbiamo poi altri parametri legati alla stilizzazione che però consiglio di utilizzare limitandosi a questi pulsanti come vedremo tra poco visto che analizzeremo anche il modo in cui è più corretto scrivere il nostro prompt ci sono davvero tanti parametri e ci viene in aiuto la guida ufficiale di mi giorni è assolutamente rapida rapida efficace sempre aggiornata e sufficientemente variegata per permetterci di personalizzare la nostra esperienza all'interno della piattaforma invece nella porzione inferiore vale la pena soffermarci un attimino di più la modalità pubblica in realtà non va confusa con la possibilità di nascondere tra virgolette il nostro lavoro alcuni utenti fin dall'inizio hanno espresso il desiderio di poter lavorare in modo che nessun altro fosse in grado di vedere ciò che noi realizzavamo questa funzionalità esiste anche se limitata e ha un costo a parte in generale tutto ciò che io realizzo dentro qualunque area di mi giorni sarà sempre visibile a chiunque arrivi su mi giorni sia registrato e si reghi nella mia pagina qui all'interno di questa sezione per cui nel mio profilo di mi giorni tutto ciò che faccio è sempre assolutamente visibile la modalità pubblica semplicemente alle volte abilitando alcun click o disabilitandola pagando praticamente il costo necessario semplicemente ci dà la possibilità eventualmente di operare in un modo leggermente più nascosto però ripeto a un costo a parte ho voluto cliccarlo proprio per mostrare quello che è il comando di riferimento che sottolinea quanto vi ho appena detto necessario sottoscrivere un tipo diverso di abbonamento per abilitare la modalità privata realmente la modalità fast e la modalità remix invece sono due comandi molto importanti poiché identificano la velocità attraverso la quale il nostro prompt viene convertito in immagine attenzione normalmente mi giorni abbastanza veloce c'è stato un periodo in cui era più lento ma oggi comunque davvero veloce quando però noi attiviamo un abbonamento una sottoscrizione riceviamo come benefit un quantitativo in termini di ore mattina utile a velocizzare il lavoro che offriamo diciamo all'interno di mi giorni attraverso il nostro pronto mi spiego meglio normalmente abilitando la versione relax che la versione standard di mi giorni quella che in automatico troviamo al suo interno quando ci registriamo il tempo macchina tra virgolette cioè il tempo che ci mette mi giorno in lavorare il prompt è quello standard molto rapido ma alle volte può andare incontro a degli imbuti nei quali tanti utenti visto che parliamo dell'ordine di milioni di utenti si trovano tutti connessi in quello stesso momento e quindi la resa dei lavori rallenta cioè la conversione del prompt in immagine rallenta volendo possiamo abilitare la cosiddetta modalità fast questa modalità ci permette di aver priorità nella fase di sviluppo dei prompt attenzione però la modalità fast non è infinita e in realtà subordinata a un parametro che si chiama ore macchina quando ad esempio abilitiamo il profilo premium da 30 euro al mese abbiamo 15 ore macchina queste ore macchina non vanno conteggiate con l'orologio che noi utilizziamo per misurare il tempo quotidianamente in realtà è il tempo che ci mette la macchina a ottenere quei risultati e tra poco vedremo come si fa a misurare l'effettiva disponibilità di questo monte ore la modalità remix è una modalità invece molto intrigante che è stata inserita qualche mese fa di solito è disabilitata poi dipende sono ovviamente impostazioni che potrebbero cambiare nel corso del tempo per cui registrandosi oggi magari ho alcune opzioni attive registrandosi domani quelle opzioni già attive potrebbero cambiare dipende da un momento al momento però è importante notificare eventualmente anzi notare più che notificare notare eventualmente se il pulsante sia attivo o meno all'interno dell'interfaccia a cosa serve questo remix mode come vedremo ogni volta che lanciamo un prompt quindi che scriviamo un testo da convertire in un'immagine migliore lo restituisce sotto forma di una quaterna di immagini con le quali interagire lo vedremo tra pochi secondi contemporaneamente avrò la possibilità di rilanciare quel prompt tutte le volte che voglio attivando il pulsante remix in fase di rilancio del prompt con il comando del caso avrò la possibilità anche di manipolare il prompt quindi se chiedo ad esempio una casa fantastica inserita nel bosco e rilancio questo prompt potrò integrare qualche altro parametro quindi sarà una casa fantastica inserita nel bosco di notte per esempio il comando remix personalmente consiglio di lasciarlo sempre attivo a meno che non vi dia fastidio vedere ogni volta la finestrella che serveremo insieme apparire di volta in volta e magari volete velocizzare il vostro passaggio quindi il vostro le vostre attività i vostri passaggi senza questa finestrella a vostro uso e consumo in più ovviamente possiamo resettare tutte le impostazioni per riportarle allo stato originale come si interagisce con questa finestra dei settaggi oltre ad aver impostato tutti i nostri parametri quindi io adesso sfrutterò un prompt preparato apposta per questa lezione lascerò le impostazioni miggiorno i 5.1 stilizzazione standard modalità fast e remix però oltre a queste impostazioni di solito possiamo andare a inserire un comando diciamo di riferimento che mi darà anche un overview di quelle che sono le impostazioni che ho scelto flash info colpo di invio e in pochi secondi mi giorni mi mostrerà quello che è la quella che la schermata di riferimento con tutte le opzioni del mio profilo in effetti ci sta già mettendo un po troppo ma è un qualcosa a cui dobbiamo abituarci poiché dipende sempre come dicevo dal traffico all'interno di discord sul canale di mi giorni è strano che ci stia mettendo così tanto ma non ha importanza lasciamogli il tempo che gli serve a questo punto la schermata che osserveremo visibile solo alla mia persona mi spiegherà da quando sono eventualmente registrato con questo tipo di protocollo premium il tipo di velocità quindi questa modalità di lavoro è alternata tra fast e relax fast ripeto è quella che consuma più velocemente questo monte ore che c'è data a disposizione la modalità di visualizzazione il tempo che ho a disposizione rimasto rispetto alle ore a mia disposizione quindi lavorando in modalità fast fin dall'inizio parto con 15 ore me ne sono rimaste 4.76 ogni volta che si rinnova il mio abbonamento mensile automaticamente si rinnoverà anche si ripristinerà anche questo parametro che tornerà ad essere di 15 ore il monte immagine totale realizzato da quando sono registrato su mi giorni che viene addirittura scisso separato con cui in due parametri diversi cioè mi viene anche specificato quante immagini ho realizzato in modalità fast e quante in modalità relax un modo per tenere sotto controllo il nostro lavoro questo tris di voce in basso invece cambia in funzione dei prompt che sto utilizzando per cui mentre lavoro utilizzeremo tra poco questo questo tipo diciamo di informazione mi offre una uno specchietto su quello che il lavoro che sta facendo mi giorni quindi mi avvisa di quante immagini sta elaborando per me tenendo conto che normalmente la coda di lavoro al massimo supporta dalle 11 alle 13 immagini dipende dal tipo di lavoro che stiamo realizzando a quel punto semplicemente non dovremmo fare non dovremmo fare altro che aspettare che la coda si svuoti quindi che mi giorni elabori altri contenuti per procedere andiamo un attimino con una piccola anteprima di quello che sarà il nostro riferimento alla nostra mappa vado un attimino a testare mio pronto eccolo qui andiamo nella nostra finestrella ho copiato questo prompt che ho generato proprio per fare questo tipo di test arrivando su discord all'interno del mio bot e lancio il mio primo prompt flash imaging incollo il mio riferimento tra poco capiremo come strutturato questo tipo di prompt contiene delle informazioni particolari contraddistinte dall'uso del simbolo più il quale è un operatore importante all'interno di mi giorni per distinguere i blocchi semantici quindi i blocchi all'interno dei quali ci sono informazioni specifiche per adesso avviamo semplicemente il nostro prompt ed otterremo una elaborazione in tempo reale da parte di mi giorni di quello che è in pratica il nostro flusso di lavoro in questo momento ho reinserito il comando info ed ecco che mi giorni mi avvisa che in questo momento è in corso di lancio di sviluppo un prompt in particolare che potremo osservare anche attraverso la percentuale di sviluppo del nostro prompt del nostro riferimento mentre il prompt si sviluppa noi ovviamente possiamo comunque lanciare altri prompt inserendo delle variazioni che poi impareremo essere parte in causa della gestione della sintassi di turno quindi per esempio posso decidere di modificare un parametro qualsiasi inserendo il termine chiave e mentre mi giorni lavora lo avvio e avremo un secondo prompt in fase di sviluppo questo è il prompt che sta sviluppando per me mi giorni quasi finito vedremo adesso il risultato come si presenterà tutto ciò che io sviluppo qui dentro lo rivedremo poi all'interno del nostro profilo di riferimento tendiamo che si completi il lavoro ed eccolo qui in che modo si presenta questa schermata una volta che abbiamo realizzato il nostro lavoro il nostro elaborato il nostro rendering abbiamo una quaterna di soggetti dai quali eventualmente sviluppare altre attività in basso ad ogni quaterna ci sono questi nove pulsantini che si riferiscono alla modalità upscale ovvero ingrandimento di ogni singola immagine in questo momento io ho solo un'anteprima tra l'altro manchevole di tutta una serie di dettagli che mi giorni aggiungerà nel momento in cui confermerò la volontà di sviluppare quello che è il suo contenuto ad esempio decido che l'immagine numero 4 faccia per me cliccando su U4 otterrò di conseguenza l'ingrandimento di questa immagine con tutti i suoi dettagli potrei anche avere il desiderio di rilanciare questa singola immagine la quale ha qualcosa che mi attira ha un potenziale ci vedo qualcosa di interessante anziché però effettuare l'ingrandimento dell'immagine l'upscaling dell'immagine che consuma ore mattina se stiamo lavorando in modalità fast io andrò a dedicarmi al pulsante V2 che mi offrirà delle variazioni su questo soggetto ovviamente le variazioni sono così come il pulsante upscale numerate e vanno considerate in senso orario U1 corrisponde alla prima immagine U2, U3, U4 quindi anche V1, V2, V3 e V4 quando clicco sul pulsante V variation quello che ottengo è una nuova quaterna di soggetti io avevo però detto che lavoro con la modalità remix attiva in effetti la prima cosa che accade prima che il prompt sia rilanciato mi verrà data la possibilità di modificare alcuni parametri ad esempio avrete notato che gli oggetti che ho ottenuto sono tutti in formato quadrato sfruttando i comandi che tra poco vedremo io vado ad integrare ad esempio un comando come ad esempio trattino trattino AR un comando specifico di migiorno e quindi va solo imparato a memoria o letto nella sua guida e andrò ad inserire per esempio il rapporto visivo tre quarti lascio il resto inalterato e clicco su invia a questo punto parte il comando e in basso vedremo esistere altre quattro varianti di questo soggetto che si presenteranno esattamente allo stesso modo il pulsantino invece con la doppia freccia circolare ci permette di riavviare il prompt mantenendo le stesse condizioni se lo desidero oppure grazie all'opzione remix attiva potrò aggiungere o manipolare dei riferimenti come ad esempio una specifica che potrebbe essere la scelta di una tonalità di colore inserire eventualmente red carmine non è detto che i parametri corrispondano sempre alle nostre necessità questo poi ci ragioneremo visto che andremo ad analizzare la sintesi dei prompt questo è il secondo prompt che ho rilanciato per mostrarvi come sia possibile lanciare più e più prompt in contemporanea questo è l'upscaling con il quale abbiamo avuto a che fare a poc'anzi quindi l'ingrandimento dell'immagine che potrà essere eventualmente scaricata direttamente da qui se vogliamo cliccando apri nel browser ed ecco la mia immagine oppure cosa che consiglio sfruttando l'interfaccia di discord chiedo scusa dimmi giorni che tra poco andremo a vedere all'interno di questo contenuto noi possiamo comunque sfruttare ulteriormente le variazioni quindi manipolando ancora una volta il nostro parametro oppure semplicemente potremo diciamo scorrere avanti e proseguire con il nostro lavoro ecco invece le variazioni su quel soggetto presso il quale ho cliccato il pulsantino V come avevo anticipato altre quattro versioni della mia immagine con caratteristiche desunte direttamente da quel singolo soggetto che abbiamo cliccato in questo momento il mio lavoro sta andando avanti di volta in volta sfruttando proprio questo tipo di modalità remix ogni volta che aggiungo un dettaglio come ad esempio giunta di un colore esso se scritto bene se posizionato correttamente andrà a influire sul risultato e in questo caso potrebbe eventualmente interessarmi in particolare e potrò decidere di abilitare i miei quattro soggetti con la funzione upscaling e poi eventualmente andare diciamo ad inviare quello che è il mio contenuto in questo momento la modalità fast mi garantisce una velocità di efficacia non indifferente e mentre lui calcola il remix quindi anzi il reload del prompt andiamo a vedere cosa è successo all'interno del mio profilo mi torno nella web app di mi journey uscendo da discord e aggiorno quello che è il mio profilo al suo interno possiedo tutta una serie di strumenti che mi permettono eventualmente di canalizzare visualizzare un po' meglio nel layout i miei lavori abbiamo ad esempio il filtro hot new top che mi permette di filtrare in misura migliore quelli che sono i risultati sperando di aver azzeccato alla pronuncia di favorited sulla destra abbiamo tre pulsantini sommati alle reaction in realtà che cosa servono? a me per visualizzare il flusso di lavoro misto tra oggetti di upscaling e griglie quaterne di riferimento se preferisco posso visualizzare esclusivamente le griglie o esclusivamente gli elaborati oggetto di upscaling è importante poi anche valutare gli strumenti che si trovano all'interno di ogni singolo post potreste aver fatto caso ai pulsantini che compaiono ogni volta che mi posiziono al di sopra di essi il pulsantino più mi permette eventualmente di scaricare l'oggetto o di canalizzarle all'interno di una collezione alla quale mi riferivo prima con i pulsantini che vediamo qui in evidenza semplicemente degli insiemi di immagini con i quali potremmo decidere di lavorare cliccando su un più in realtà noi abbiamo la possibilità di aggiungere altri soggetti e quindi di scaricare velocemente attraverso il menu di riferimento facile e intuitivo tutte le immagini che abbiamo voluto insomma desiderato scaricare all'interno del nostro computer clicco su player cliccando invece sui tre puntini al centro dell'immagine più o meno sulla destra abbiamo degli strumenti aggiuntivi che ci permettono per esempio di andare a riaprire l'immagine all'interno di discord cliccando su di esso infatti mi giorni ci proietterà direttamente nella sezione di discord che conteneva quello elaborato è per questa ragione che è molto comodo organizzare il proprio flusso di lavoro in collection perché in questo modo potremo facilmente recuperarle anche nel corso del tempo benché potrebbe di tanto in tanto non essere completamente funzionante la diciamo l'impostazione di recupero oscillazioni normali di tutte le piattaforme malfunzionamenti o piccoli bug o cambiamenti che di tanto in tanto rendono diciamo impossibile recuperare i lavori davvero molto vecchi oltre alla possibilità di andare ad aprire il nostro contenuto su discord abbiamo la possibilità di inserirlo nei preferiti cosa che possiamo fare sia nei nostri elaborati sia con quelli che troviamo sui profili degli altri utenti e ovviamente possiamo salvare il nostro contenuto le reaction quindi ci permettono eventualmente di interagire con gli altri utenti e la cosa più ovvia per questo le ho lasciate per ultimo nel mio caso potrebbe non aver senso scegliere di attivare una di queste reaction ma sono in realtà molto utili poiché come vedremo quando andremo nella sezione di esplorazione degli altri utenti sono lo strumento che più ci permette di entrare in relazione con gli altri creativi dentro nei giorni in ogni caso l'impostazione comunque generale dell'interfaccia è di solito quella che stiamo osservando e generate le collection seguendo le istruzioni assolutamente rapide ci basta semplicemente come dicevo decidere per esempio di utilizzare non un'immagine in griglia ma un'immagine in versione upscale per sfruttarne le caratteristiche specifiche possiamo trasformarla nella nostra profile pic possiamo utilizzarla come cover a seconda dei casi oppure cliccando sul più come ho detto prima possiamo decidere di aggiungerla ad una collection che possiamo creare contestualmente alla nostra la gestione del nostro layout inserendo un kitor una descrizione questo è il parametro il nome tecnico dell'immagine ed eventualmente altri strumenti che potrebbero essere oggetto di approfondimento ma vi è sufficiente gestire le collezioni aggiungendo manualmente i contenuti ci sono degli automatismi ma su questi poi magari diciamo se c'è tempo ci spendiamo in una seconda fase su queste specifiche come si presentano queste collection è presto detto questo è un esempio di collection sono all'interno del profilo di Artlandis c'è la descrizione il titolo della mia collection e al suo interno ho canalizzato tutta una serie di elaborati che avevano in comune per quanto mi riguarda un certo gusto estetico un determinato prompt oppure una particolarità che desideravo inserire all'interno di questa collection allo stesso modo ogni volta che ne ho bisogno posso integrare una collection per raccogliere per esempio gli elaborati in questo caso destinati al mashup tra la vincita del campionato del Napoli The Mandalorian e il mondo di Star Wars attenzione abbiamo solo 100 collection a nostra disposizione che potrebbero sembrare tanti ma nel momento in cui inizieremo a comprendere che le collection sono uno strumento essenziale per l'algoritmo e per lo sviluppo di altri prompt vedremo che 100 è un numero che tutto sommato comunque potrebbe non bastarci alla lunga ma sta parlando comunque una persona che ovviamente ha una viscerale passione per mi giorni e si vede un po' dal numero di contenuti di tempo che dedico a questa piattaforma torniamo all'interno di Discord invece e proviamo a spenderci un po' sulla struttura del prompt poiché all'interno di Discord del canale Discord di mi giorni sono a nostra disposizione tanti strumenti e ciascuno strumento fra l'altro ci apre una serie infinita di possibilità andiamo per gradi in che modo si costruisce un prompt efficace ho predisposto per voi questo tipo di mappa che diciamo mi porto dietro nel tempo con le relative variazioni che aggiungo di volta in volta questa è la prima volta che la mostro a qualcuno e ho voluto dedicarla a questa sessione ringraziando Andrea per l'opportunità di questo video il prompt che osservate io lo chiamo prompt universale ovvero una formula che tutto sommato può andar bene su qualunque piattaforma al netto delle specifiche che dentro alcune piattaforme potrebbero ritrovare l'unica particolarità che segnalo fin da subito è l'uso del più che su mi giorni equivale alla virgola non si sostituisce perfettamente ad essa cioè sono comunque due cose diverse ma che troviamo solo all'interno di mi giorni in altre piattaforme l'utilizzo del più potrebbe portare a risultati molto molto differenti rispetto all'uso della virgola in generale visto che parliamo di mi giorni soffermiamoci sull'uso del più ogni prompt che io genero è votato a questa struttura c'è una sezione iniziale dove io specifico il formato alcune impostazioni di layout il tipo di inquadratura o dinamiche specifiche nel mio caso per esempio full frame dynamic pose che è il comando che ho inserito all'interno del prompt che avete visto si riferisce al tipo di inquadratura che desidero e al tipo di scena o di una posa dinamica poi abbiamo ad esempio la frase vera e propria o la parola chiave da tradurre è essenzialmente la protagonista o il protagonista del prompt descrive il soggetto può riportare alcuni riferimenti specifici che si legano a filo doppio alla mia frase ad esempio la casa nel bosco può essere affiancata da una serie di virgole di parametri nel mio caso il protagonista è in realtà il modello gender fluid associato a ethereal elegant mutation fantasy style dynamic pose mi accorgo che è tutta un'unica associazione poiché i due e più arrivano prima e dopo diciamo la mia descrizione quindi agli occhi di mi giorni questo blocco è come se fosse un blocco unico proseguendo avremo inoltre dei modificatori estetici che possono essere totalmente personalizzabili generi fotografici generi illustrativi generi grafici parametri di qualunque tipo addirittura riferimenti specifici come l'espressione in style of una particolarità che possiamo legare ad esempio a artisti del passato in style of Caravaggio oppure artisti contemporanei vivi o deceduti in style of HR Giger in style of Studio Giggly trovate spesso questo tipo di riferimenti e si può andare davvero ad inserire qualunque genere di riferimento possiamo immaginare a questi modificatori estetici se ne aggiungono altri che possono invece riferirsi specificatamente allo stile di uno o più autori studios creativi o stili grafici personalmente per una questione legata diciamo alla legittimità l'uso di questi riferimenti sconsiglio l'inserimento del nome specifico di un autore poiché significherebbe ottenere un risultato del tutto diverso da quello a cui siamo abituati inserire Moebius come riferimento ci dà un ottimo risultato ma è chiaro che sarà comunque votato a quel tipo di autore per questioni che non sto qui adesso a spiegare magari ci sarà un secondo momento è importante secondo me invece ragionare in una chiave sottilmente diversa cioè decodificare uno stile tradurlo in termini chiave ed inserirlo all'interno di Migiorney cosa che produce dei risultati più originali significativi e sicuramente più etici al di là del modificatore estetici e dei riferimenti o delle suggestioni che possiamo tranquillamente miscelare e invertire a nostro piacimento ci sono anche c'è anche una terza categoria di riferimenti dei prompt che riguarda le connotazioni estetiche diverse da quelle che abbiamo menzionato in precedenza ad esempio la specifica sui colori il livello qualitativo dei dettagli dell'immagine ovviamente tutti vogliono un'immagine in alta qualità ma in questo caso ci si riferisce ad esempio ai dettagli delle immagini che possono contenere pattern, texture dettagli anatomici o particolari e a quelli possiamo integrare un parametro in alta qualità che si riferisce ad esempio al parametro proprio spesso come l'ho definito alta qualità high quality e possiamo inoltre inserire riferimenti materici possiamo chiedere un soggetto fatto di pietra fatto di fuoco fatto di lava fatto di cemento possiamo realmente inventarci qualunque tipo di descrizione ancora una volta tutto contemplato nel blocco che chiamiamo mood ed inspiration dopo il blocco mood ed inspiration intervengono invece parametri ambientali di varia natura che si legano a loro volta alla CGI per cui possiamo richiamare ad esempio i motori di rendering più famosi Unreal Unity Arnold e così via oppure semplicemente specificare il tipo di illuminazione che desideriamo con tanto di parametri tridimensionali quindi vogliamo una luce in alto a destra frontale ma spostata lungo l'asse XYZ in altra posizione possiamo comunque specificare questo tipo di parametri senza ovviamente entrare troppo nel dettaglio non siamo in un software 3D vero e proprio per cui ci basterà selezionare ad esempio indicare anzi quella che è la posizione della luce top ad esempio right tanto per fare un esempio specificando pian pianino descrivendo nella scena l'effetto di avere la luce sul soggetto quindi raccontando a parole e la luce ci trova dietro in alto a sinistra o a destra a seconda dei casi qui dentro in quest'area possiamo anche andare a indicare ulteriori parametri come parametri come gli obiettivi fotografici il tipo di obiettivo che è realmente esistente Canon, X Sony Nikon, Sony eccetera eccetera andando eventualmente a pescare a quello che è il tipo di obiettivo descritto a livello tecnico direttamente all'interno della pagina degli relativi obiettivi o possiamo anche semplicemente fermarci su quei parametri che magari enfatizzino gli effetti di luce gli effetti di ombre l'inquadratura la necessità di una sfocatura gli effetti bokeh tutto quello che possiamo immaginare che fa capo alla cosiddetta post-produzione infine andiamo a concludere il nostro prompt con i parametri di riferimento ufficiali di Migiorni ce ne sono tantissimi vanno tutti comunque sperimentati sperimentare la via migliore per avere una percezione corretta del funzionamento della piattaforma ci sono però due categorie di parametri quelli ufficiali che si riferiscono al tipo di algoritmo e alle dimensioni e ai rapporti di Sili il tipo di algoritmo lo abbiamo visto nelle impostazioni di settaggio ovvero invietando il comando settings ma per non dover star sempre a modificare ogni singolo parametro è consuetudine semplicemente aggiungere all'interno del proprio prompt la sigla di ogni algoritmo ne spiego la ragione per passare dall'uso dell'algoritmo Niji 5 per esempio quello che mi dà la funzione anime alla versione 5.1 la standard di Migiorni possiamo utilizzare i settaggi o possiamo indicare il parametro con il doppio trattino che caratterizza i comandi ufficiali di Migiorni a prescindere dai settaggi attenzione quale che sia la impostazione del settings che ho inserito i parametri scritti nel prompt hanno priorità per cui se io all'interno dei settings inserisco un MJ1 quindi versione 1 ecco qui il modo in cui sarà presente nel prompt ma poi nel mio prompt inserisco ad esempio la specifica trattino trattino v5 5.1 in questo caso ciò che fa ah vi ho dimenticato inserire un prompt imaging proprio di che si inserisce il nostro prompt quindi trattino trattino v5.1 nel momento in cui io avvio il comando che viene preso in considerazione che ha priorità è questo attenzione cioè l'ultimo il 5.1 che ho scritto a mano quindi ciò che scrivo a mano ha priorità sulle impostazioni attenzione però poiché ovviamente il server discord di mi journey è soggetto oscillazioni bug modifiche nel corso del tempo di tanto in tanto questo tipo di effetto potrebbe non funzionare correttamente ed è lì che rientrano le sezioni status di cui vi ho parlato prima in ogni caso la regola generale è esattamente questa ciò che scrivo a priorità rispetto alle impostazioni di mi journey quelle espresse nell'area settings in effetti il risultato sembra piuttosto essere quello della versione 5.1 ce ne accorgiamo subito per via della coerenza anatomica dei soggetti nelle versioni 1 e 2 di mi journey la coerenza anatomica era veramente un terno all'otto torniamo un attimino nel nostro nel nostro prompt universale all'interno quindi del primo blocco che chiudono il mio prompt avrò questo tipo di impostazioni quelle relative agli algoritmi oppure quelle relative alle dimensioni dell'immagine che voglio ottenere e qui si tratta di avere a che fare con i rapporti visivi 9 sedicesimi 16 noni 3 quarti 4 terzi 2 terzi e così via scelgo i parametri che desidero a meno che non stia andando ad inventarmi dei rapporti visivi normalmente sugli standard mi journey risponde abbastanza bene attenzione piccola curiosità la scelta del formato influisce tantissimo sul tipo di resa abbastanza ovvio da comprendere immaginiamo la richiesta di un prompt di un ritratto e poi esprimo l'idea di un soggetto molto largo e poco alto ovviamente mi journey farà di tutto per inserire un ritratto in quella finestrella così sottile normalmente però il ritratto uscirà tagliato modificato seguendo questa logica quando ho in mente un'immagine di un certo tipo è importante scegliere il formato corretto per esempio questa categoria di contenuti reputo essere una di quelle che sono riuscito a migliorare e portare al top rispetto al tipo di prompt che io stesso ho scritto poiché oltre ad avere la dinamica delle figure che hanno pose assai differenti esse godono del formato verticale il formato verticale in questo caso potremmo chiamare il formato stories anche se non è proprio un formato story in questo caso però favorisce la resa del tipo di soggetto che io voglio ottenere e di conseguenza potrebbe eventualmente fare al caso mio se ciò che voglio è una figura intera contemporaneamente nel caso dei vestiggiamenti per lo scudetto vinto dal Napoli in realtà io qui ho utilizzato formati molto diversi da quello fotografico per la foto della squadra al panorama ad esempio del golfo di Napoli con le dimensioni più diverse e di volta in volta ho ottenuto quindi una resa via via migliore o peggiore dipende poi come si intende e in ragione del tipo di formato che ho integrato quindi attenzione perché il formato condiziona il risultato tanto quanto gli altri parametri a fianco a questi parametri ci sono una lunga serie di parametri integrativi che rendono diciamo diversa l'immagine si va dalla stilizzazione vera e propria allo stile che sono due concetti diversi al parametro caos che mescola un po' la capacità di migliorare di interpretare il contenuto alla qualità al seed che ci permette un concetto diciamo che andrebbe spiegato in un secondo momento che ci permette di focalizzare il nostro interesse su un tipo di soggetto e mantenere tutti i risultati su quel soggetto è un po' come mettere il lucchetto su un'immagine e su di essa poi lavorare e sviluppare sempre i nostri contenuti ma ripeto è un concetto che adesso ho esposto brutalmente eventualmente in un secondo momento andremo ad affrontare poi abbiamo la funzione tile che ci permette adesso lo vedremo all'opera di generare un effetto pattern su qualunque immagine e quindi sarà replicabile in orizzontale in verticale in tutte le direzioni e poi per i parametri per le ultime versioni dell'algoritmo di MidJourney il parametro IW che in pratica si riferisce nel momento in cui vogliamo utilizzare un'immagine per creare il nostro prompt al peso effettivo dell'immagine lo vedremo al volo tra poco questi parametri li trovate tutti all'interno della documentazione ufficiale di MidJourney disponibile all'interno del nostro profilo su MidJourney nella colonna di sinistra ed è assolutamente puntuale e precisa dettagliata e assolutamente user friendly quindi potete trovare davvero comunque tutti i contenuti che vedete con tutti gli esempi migliori del caso in questo senso MidJourney ha fatto un gran lavoro di aggiornamento andiamo un attimino su Discord e divertiamoci a questo punto con qualche piccola variazione quindi presco il mio prompt vado su Imaging eccolo qui voglio intanto modificare un po' la mia espressione in questo caso per esempio oltre a full frame dynamic pose questa è la sezione pose point of view inserirò per esempio un semplice parametro wallpaper guardate mi ho scritto a dire il caps lock o paper che indicherà ogni giorno in un certo tipo di formato poi abbiamo la nostra frase di riferimento e anziché fantasy style andiamo ad inserire il parametro steampunk style dynamic pose lo lasciamo illustration aesthetic lo cambiamo con ad esempio un minimalist a estetic impressionist o il painting lo possiamo lasciare in questo modo oppure magari mettiamo un hyper realism illuminazione soft oppure possiamo fare esempio inserire un epic red illumination anzi facciamo orange così lo vediamo diverso da quello di prima dramatic volumetric light quindi ancora i parametri di luce di illuminazione eccetera dettagli insane detail sta per diciamo sostituisce la volontà di esprimere il massimo possibile della qualità si si gioca sulle parole ma poi non è sempre un riferimento specifico hanno comunque una loro importanza poiché si legano allo storico dell'addestramento dell'algoritmo a cura anche diciamo degli utenti per cui se c'è un termine molto utilizzato è evidente che potremmo utilizzarlo anche noi lasciamo insane the noise no blur io ho chiesto di non inserire effetti di sfocatura ma qualcosa potrebbe sempre capitare e poi abbiamo i parametri qualitativi questo Q5 indica la mia volontà di lavorare con il massimo della qualità possibile che va attualmente da 1 a 5 inserisco anche il parametro 5.1 poiché vi ricordo che ho impostato nei settaggi eccolo qui la versione 1 dell'algoritmo avvio il primo prompt me copio questo riferimento così adesso andiamo a sviluppare e vediamo le differenze mentre lui lavora io comunque per evitare di dover scrivere ogni volta quel parametro inserisco il parametro 5.1 e cominciamo a giocare un pochettino imaging incollo il mio parametro il parametro 5.1 non mi serve più ma inserirò per esempio il parametro di stilizzazione parametro che va diciamo fino a di solito 10.000 se non ricordo male l'ultima variazione di solito comunque si va anche da 1 a 1.000 per non esagerare ma se dovessimo esagerare per esempio nel scrivere un numero o non ricordiamo qual è il parametro limite ci basta sparare un numero a caso e se c'è un errore il sistema mi avvisa e mi dice guarda che questo parametro con questo tipo di algoritmo arriva solo fino a 1.000 quindi non riesco un po' così si vede anche meglio andiamo su image prompt e scriviamo s500 in più inserisco anche un secondo parametro anzi lo inserisco dopo avvio questo ancora questa volta anziché il parametro s inserisco il parametro chaos che mescola un po' diciamo quelle che sono le carte in tavola e a questo punto anziché anche questo parametro vada a 0 a 1000 in questo caso inseriremo per esempio un parametro più basso c35 già stiamo osservando il risultato delle modifiche al prompt che abbiamo applicato e stiamo iniziando ad osservare l'enorme qualità che in questo caso addirittura in anteprima migliorerò ulteriormente con l'upscaling dei miei risultati guardate il dettaglio le luci e tutto ciò che eventualmente potrebbe interessarci inoltre di passaggio in passaggio sulla base delle preferenze che esprimiamo con le U con le V o con il reload del prompt l'algoritmo capisce sempre un po' di più del nostro obiettivo desiderato per cui potrebbe migliorare anche in questo caso ulteriormente la resa la direzione da prendere quindi ricordiamoci che tutte le AI sono soggette ad addestramento continuo non solo quello ufficiale ma anche quello che arriva direttamente dal nostro profilo nel frattempo il prompt continua a svilupparsi e abbiamo ad esempio qui il parametro stylize S che ha inciso all'interno del nostro prompt in maniera sensibile non ci sembrerebbe perché è molto simile al precedente ma vi garantisco che facendo le opportune prove esso ha un impatto notevole all'interno del nostro risultato vediamo invece il parametro chaos eccolo qui C35 iniziamo a vedere infatti che qualcosina cambia cambiano gli sfondi cambiano i dettagli e volendo per esagerare possiamo anche inserire un parametro S999 C999 e divertirci con il risultato chaos ah 0 100 ricordavo male non era 1000 ma 100 nessun problema inserire S quindi molto utile come stiamo vedendo la capacità dialogativa dell'algoritmo di MiGiorno mentre lui si attiva noi invece andiamo a vedere cosa succede con il prompt di base se al di là di tutto ci spostiamo sul genere anime ed inserisco il parametro più recente NIGI5 ogni volta che dovessi errare nello scrivere il mio prompt non preoccupatevi non entrate nel panico leggete bene le istruzioni che sono comunque a portata di mano visto che siamo all'interno del nostro bot in questo caso quindi il sistema sta producendo i suoi risultati vedo un po' lo zoom così lo vediamo meglio tutto ciò che andrò a realizzare lo troverò costantemente a mia disposizione all'interno della sezione della home del mio profilo eccolo cliccando su all o grid in questo momento non ho fatto l'upscaling di tutti i soggetti ci mette sempre qualche secondo infatti in questo momento ancora non sono visibili gli ultimi risultati che ho ottenuto su discord però sicuramente diciamo poi tra pochi secondi arriveranno nel frattempo ho ricevuto il mio blip qui stiamo osservando la versione anime perché comincia a mostrarci un risultato dove finito mi è scattato in basso ecco qua dei risultati decisamente differenti vi garantisco che è interessante giocare poi con questi parametri perché alle volte si ottengono delle cosette sfiziose non solo legate al mondo degli anime ma in generale anche stilizzazioni legate al mondo per esempio dei mecha o dei kaiju tanto per fare un esempio in questo caso qui abbiamo la stilizzazione 999 e C99 anche qui il doppio trattino e questi sono i risultati bene mi piace molto questo tipo di effetto aggiungiamogli una combo specifica tanto per divertirci un po' richiedo di nuovo questo prompt ma questa volta attivo il comando tile se il comando tile non dovesse essere disponibile potrebbe per la versione dell'algoritmo che stiamo utilizzando potrebbe in quel caso far riferimento sicuramente agli errori che Migiorney ci va a mostrare bene mentre lui si prepara vediamo anche la modifica in termini di dimensione quindi lasciamo il prompt così com'è ma inseriamo il comando 9 sedicesimi e il comando 16 noni e vedremo cambiare la resa delle dimensioni dell'immagine già ce ne stiamo accorgendo mentre lui sviluppa tutto il necessario alla fine comunque noi potremo andare ad ottenere i risultati desiderati aspettiamo un attimino vediamo se stiamo ad ottenere questo tipo di risultati in particolare ci interessa questo risultato poiché il parametro tile vi ricordo ecco qui è finito in questo momento non si vede ad occhio nudo ma vi garantisco che andando a fare l'upscaling di ogni immagine ciascun tassello è replicabile in tutte le direzioni all'infinito poiché viene progettato come una texture e vi garantisco che funziona alla perfezione molto intrigante nel momento in cui magari si vuole giocare con la combo tra le diverse AI un classico migliorno e più le funzionalità generative di Photoshop Beta con Adobe Firefly molto molto utili qui abbiamo invece la resa che ovviamente come anticipavo prima è condizionata in parte dal formato e decisamente comincia ad avere una resa differente un dettaglio notevole e piuttosto interessante aggiungiamo però l'opzione per l'integrazione per esempio di un'immagine all'interno del nostro pronto poiché posso offrire alla mia piattaforma un'immagine specifica laddove eventualmente dovessi essere interessato a quel tipo di contenuto dovremmo avere ovviamente i diritti d'uso di quell'immagine quindi in questo caso vado a pescare una direttamente dal mio portfolio così da non violare nessun tipo di riferimento in che modo ci serviamo delle immagini con le quali lavoriamo con le quali abbiamo a che fare dentro discord e quindi dentro mi giorni pesco questa immagine e catturo l'indirizzo della mia immagine e la mia immagine di riferimento sarà questa eccola qua vado all'interno di discord e posso eventualmente inserire all'interno del mio prompt la mia immaginetta ed eventualmente aggiungere tutti gli altri comandi che fin qui avevo o desiderato insomma integrare cambierò solo ed esclusivamente eccolo qui i miei parametri quindi gli darò per esempio un parametro facciamo un tre tre quarti copio l'intero prompt e vado su invio ogni giorno inizierà ad interagire creando il prompt basandosi su questa immagine questa volta oltre a dargli gli stessi parametri voglio specificare che per me quell'immagine ha un valore doppio importante quindi inserirò il parametro i i w i w 2 però diciamo che normalmente non si utilizza questo parametro a meno che non si abbia proprio la volontà specifica di ispirarsi a quella foto se il vostro scopo è ottenere un riferimento di base ma lasciare spazio creativo a mi giorni il consiglio che vi do è di muovervi nel parametro i w 0.5 1 massimo 1.5 già 2 sarà troppo ma nel mio caso lo voglio utilizzare per mostrarvi questo tipo di rest mi giorni sta calcolando in questo momento l'immagine di riferimento integrata a questo tipo di soggetto al suo interno però esiste anche una modalità molto intrigante adesso vi farò vedere che ci permette di miscelare una o più immagini fino a 5 in maniera creativa andiamo intanto a vedere che cosa è successo vi ricordo che la mia immagine di riferimento è questa questo è il soggetto finale ovviamente questo è il parametro di default diciamo il peso dell'immagine qui è relativo fa solo da riferimento possiamo giocare con delle silhouette con il bianco e il nero con il negativo e il positivo otteniamo sempre dei risultati interessanti con il parametro iw però in questo caso è semplicemente una reference utile alla realizzazione dell'immagine vediamo i colori vediamo le curve e così via nel secondo caso invece qui abbiamo il peso lubrige dell'immagine e non otteniamo nulla perché? perché mi sono dimenticato di inserire che miseria scusatemi ho realizzato adesso che non ho inserito il link alla mia immagine allora andiamo a prenderci dove sei? sembrava strano che non avesse calcolato per niente inseriamo il nostro prompt questa volta ci prendiamo il link corretto inseriamo qui spazio e direi che possiamo avviarlo ok quindi ripartiamo questa volta con il parametro iw visto che ci siamo questi contenuti sono di troppo poiché sono un posto sbagliato come si fa a eliminare un contenuto che non voglio che venga visto neanche nel mio profilo poco fa parlavamo della possibilità di lavorare in privato un trucchetto che tanti utilizzano è sviluppare un prompt finalizzarlo scaricarne le immagini e poi andare sempre nelle reaction questa volta con la x che avevamo visto prima e selezionare questa x rossa se vogliamo proprio essere sicuri due puntini x due puntini comparirà questo simbolo e abbiamo eliminato il risultato non solo da discord ma anche dal nostro profilo pubblico intanto vediamo che cosa succede dandogli il parametro iw2 scusatemi il sistema sta caricando la mia immagine con il riferimento del caso e tra poco otterremo il nostro risultato mentre lui carica il comando di riferimento che potrebbe tornarvi comodo per la gestione delle immagini il comando blend prima di parlare del comando blend vediamo il risultato ottenuto questi sono praticamente i soggetti fusi con la mia immagine devo essere onesto il risultato tutto sommato è gradevole in certi casi il comando iw2 diciamo che devasta notevolmente il soggetto dipende in questo caso invece con il comando blend quindi ripeto slash blend abbiamo la possibilità di mescolare più immagini assieme in modi differenti posso integrare per esempio due immagini una con l'altra clicco vado a caricare per esempio un'immagine presa da facciamo ppp questa qui prendiamo quindi la prima immagine prendiamo la seconda a questo punto posso eventualmente cliccando qui in basso a destra selezionare altre tre immagini da integrare o le dimensioni che preferisco a scelta tra ritratto quadrato e landscape visto che l'immagine è una landscape potrei selezionare direttamente landscape e avere un risultato coerente clicco su invia e il mix del prompt riparte facciamo un test mentre lui carica diverso quindi slash blend questa volta andrò ad inserire fino a 5 immagini diverse e come dimensioni gli andrò a dare eventualmente il comando square questa volta però metterò assieme immagini di natura diverse quindi ci prendiamo questa immagine che è un formato landscape andiamo poi a prendere altre immagini come per esempio dentro non sono neanche io che cosa c'è un'immagine in verticale un'immagine pppp una wide non ce la vediamo qui andiamo a cercare wide andiamo questo via ecco queste sono immagini quadrate e le altre per non farvi perdere tempo visto che mi sto allungando un pochettino andiamo direttamente a prenderle da altre immagini sto andando veramente comunque a mixare robe che non c'entrano nulla una con l'altra vi garantisco che mi giorni comunque prenderà in considerazione ogni singolo aspetto questa tecnica tra l'altro questo mix che mi giorni si offre di fare sta caricando eccolo funziona anche se caricate dei vostri disegni io ad esempio ogni tanto disegno dei personaggi ho provato a caricare al suo interno un'immagine e beh devo dire che il risultato è stato assolutamente interessante in alternativa se dovessi diciamo volerla sperimentare posso caricare l'immagine su discord con il pulsantino di riferimento catturarne il link e darlo in pasto direttamente a mi giorni come se fosse un link esterno a patto ovviamente di averne i diritti vediamo un attimino questo genere diciamo di risultato di combinazione e poi concludiamo con un dettaglio veloce sulla possibilità di esplorare sperimentare attingendo ai prompt della community bene in questo caso stiamo osservando dei risultati che sono il frutto di quel mix che avete visto poc'anzi pian pianino l'immagine si costruisce qui avevamo le due immagini messe assieme che fra l'altro possiamo sempre andare a rivedere qui dentro nell'anteprima così da capire da dove si era partire ed ecco il risultato di quello strano mix che ho generato gradevole o meno dipende ovviamente dalla coerenza delle immagini ma il risultato l'abbiamo ottenuto quindi il lavoro essenzialmente all'interno di me giorni è molto molto semplice e abbiamo comunque numerosi altri comandi a disposizione che sono tutti bene o male raccolti all'interno della sezione dei parametri che ho linkato in questa mappa mappa che trovate su xmind.com slash artlandis quindi sono tutte mappe pubbliche quindi potete tranquillamente andare a recuperare questo tipo di link detto ciò torniamo un attimo sul nostro profilo e vi invito a visitare spesso e volentieri la sezione ad esempio community feed all'interno di questa sezione noi troviamo i risultati di tutti gli utenti divisi ovviamente da filtri del caso per ciascun tipo di risultato se ad esempio mi affascina questo tipo di contenuto prima di tutto clicco su like cosa che mi permette di memorizzare come un bookmarking a suo tempo c'era anche la funzione bookmarking vera e propria ma adesso è stata tolta quindi c'è rimasto solo il like la memorizzo così da averla all'interno dei miei preferiti poi o dai miei preferiti che trovo all'interno del mio profilo qui ppp favorited ok ovviamente ogni tanto carica queste diciamo sono le API di migiorno e purtroppo ogni tanto possono sbarellare ma aggiornando di solito la pagina qualche cosina insomma la si ottiene eccolo qua quindi posso andare adesso non mi fa visualizzare i miei favoriti ma come ho detto fisiologico fa parte della piattaforma in ogni caso torno all'interno della mia immagine nella sezione della community clicco al suo interno e ottengo non solo il nome dell'autore la possibilità di seguirlo la possibilità di esprimere una reaction a tema ma posso addirittura visualizzare il suo prompt infine non è mai copiarlo non avrebbe senso sinceramente per quanto le immagini siano comunque di proprietà pubblica di tutti tutte le piattaforme in realtà almeno questa dovrebbe essere l'ultima annotazione diciamo su questo tipo di contenuti però al di là della qualità dell'immagine del contenuto dell'immagine dei diritti di uso in generale non avrebbe proprio senso replicare il prompt di un altro utente rilanciando otterremmo comunque dei risultati diversi ma il bello la particolarità di migliorno è anche quella di sperimentare creare e gestire un contenuto che sia diciamo legato al flusso di lavoro che poi arriverà per cui può essere interessante osservare il tipo di resa in rapporto al prompt che quest'utente ha utilizzato ma attenzione non fatevi ingannare questi risultati che vengono solitamente selezionati dalla community sono tutti straordinari e bellissimi ma sono tutti il frutto di numerosi passaggi che troviamo solitamente sotto o che possiamo ricostruire agendo direttamente sul parametro genitore quindi sulla quaterna di genitore diciamo genitore del genitrice in questo caso del soggetto e a sua volta questa quaterna ha una sua origine e potrebbe averne ancora e ancora e ancora alle volte si tratta di fortuna alle volte semplicemente di averne azzeccato il prompt corretto nel momento migliore sia ciò che sia noi possiamo comunque andare ad esplorare ogni singolo prompt ogni singolo riferimento per costruire la nostra sintassi e come sa chi magari mi ha già visto alle prese con il live con questo tipo di contenuti io solitamente mi creo una griglia di parametri divisi per genere andando ovviamente a ragionare su questo tipo di schematizzazione quindi sul mio prompt universale sulla base di questa schematizzazione che vi ho fatto vedere prima poi vado ad inserire quelle specifiche quei parametri e li vado a ricombinare come desidero e solo una notazione dovesse capitare che magari il prompt che stiamo osservando non è riconoscibile o vediamo che manca qualcosa come ad esempio qui alla destra delle virgole manca qualche cosina possiamo comunque interagire con ogni contenuto chiedendo alla piattaforma di mostrarci il lavoro di quest'utente che si chiama Dangan direttamente su Discord e se possibile dipende dall'algoritmo dal momento storico dall'API di mi giorni dentro Discord alle volte potremmo anche riuscire finalmente a risalire al prompt originale tante volte ciò non è possibile possiamo fare un ulteriore tentativo andando all'interno della sezione copy job ID andando poi invece nel nostro bot selezionare la voce show tra i comandi show job ID incollare dei di riferimento e non essendo noi proprietari di questa immagine non possiamo vedere nulla ma questo meccanismo applicato all'interno delle sezioni di riferimento a volte ci permette di risalire la china quindi andare a verificare che tipo di prompt ha utilizzato l'utente è comunque già sufficiente questo tipo di parametro per cui non dobbiamo fare altro che andare a lavorare all'interno della community esplorare per ogni tipo di contenuto ciò che ci interessa di più e poi desumerne i parametri che magari possono servirsi di keyword alle quali non avevamo pensato ci sarebbe anche il motore di ricerca che però solitamente è una bella schifezza nel senso che comunque a periodi funziona non funziona quindi decidete voi eventualmente poi come gestire la nostra navigazione l'interfaccia in ogni caso è assolutamente semplice da comprendere ecco i preferiti giustamente di là che mostrava solo i miei errore mio questi sono i preferiti diciamo i file che preferisco generati dalla community sul mio profilo c'erano invece i preferiti che attingevano arrivavano dai miei elaborati in ogni caso per ogni utilità la sezione help e fack vi mette a disposizione la documentazione filtrata come vi ho mostrato prima nella sezione parametri molto utile per sviluppare il proprio lavoro questo è quanto spero Andrea di non essere andato troppo lungo ma no anzi grazie insomma spero diciamo ecco di avervi spinto a testare a sperimentare perché la chiave del successo su me journey la chiave del divertimento su me journey è sicuramente quella dell'esperimento della sperimentazione continua della suggestione e della ricerca di quei termini più particolari che possono sortire effetti straordinari e sempre unici se siete su me journey venite a cercarmi e ci seguiremo a vicenda e vedremo insieme cosa ci aspetta dietro l'angolo Andrea già lo sa dietro l'angolo c'è qualche cosina di molto particolare che potrebbe essere poi una sorpresa da parte di me journey che si potrebbe verificare domani come tra un mese lo vedremo ma è comunque molto succulenta io l'ho già provato mi ci sono divertito parecchio e vi invito insomma a ricercarla e sperimentare anche voi per divertirvi ancora di più che bello senti Massimo fai una bella cosa aprimi un'altra scheda del browser e ci racconti un po' del tuo progetto sì eccolo qua allora in realtà diciamo che all'interno del mondo delle intelligenze artificiali c'è tantissimo da dire lavorare con le intelligenze artificiali non è il futuro è il presente ma non va confuso con la possibilità di realizzare belle immagini tra virgolette o senza virgolette va invece associato ad una modalità di produzione creativa assolutamente diversa variegata e trasversale che tocca i software che utilizziamo comunemente le applicazioni che potremmo eventualmente avere il desiderio di utilizzare e modelli produttivi differenti che toccano anche i video i testi i contenuti sono cose che già sappiamo ma vanno spiegate soprattutto perché va fatta chiarezza rispetto a quegli appunti che di tanto in tanto sono usciti all'interno di questo video quindi licenze d'uso la diciamo l'eticità dei contenuti prodotti e anche il corretto approccio e il flusso di lavoro persino la convenienza rispetto all'utilizzo di queste risorse e potremmo scoprire che non è esattamente tutto oro ciò che luccica di conseguenza già lo scorso anno avevo lanciato una masterclass 2022 una picca di contenuti che potete eventualmente andare a scoprire cliccando all'interno del mio profilo su artlandis.net totalmente gratuiti open e sta per ripartire la versione 2023 di nuovo totalmente gratuita e open e poiché la finalità di questo progetto è esclusivamente formativa barra informativa e lo scopo principale di tutti i contenuti che andrò a viscerare è quella semplicemente di cercare di controbilanciare l'inesattezza la disinformazione che purtroppo viaggia e cavalca veloce online e che ci espone tutti a un rischio soprattutto se siamo professionisti o comunque utenti che vogliono divertirsi ma nel rispetto della proprietà intellettuale altrui o di quelle che sono ovviamente la fenomenologia l'etica del lavoro e quant'altro vi invito quindi se vi fa piacere a seguirmi sicuramente ne darò notizia su youtube e a seguirmi insomma per capire magari quando partirà insomma questa iniziativa dovrebbe partire tra un paio di settimane al massimo ma conoscendo i miei tempi potrebbe anche partire tra cinque anni scherzi a parte mi sto impegnando per velocizzare il tutto e grazie a te Andrea di avermi dato la possibilità anche di approfondire questa piccola annotazione mi fermo qui grazie a te andrò a parlare giorni se non vi tocca abbattermi grazie grazie mille e grazie a voi che avete seguito questo video fino a qui mi raccomando aggiungete nei commenti se avete scoperto delle cose sui giorni se ci sono delle cose che ritenete utili che ritenete interessanti raccontatecele vi ricordo che vi lascio il link di massimo col suo tag al canale youtube nella descrizione di questo video caro massimo rimando un attimo in linea che saluto e torno da te e allora grazie ancora vi invito ad aggiungere nei commenti ulteriori informazioni rispetto a questo video vi mando un grosso abbraccio e un appuntamento al prossimo ciao grazie a tutti